Chiamo a parlare Mario Condode Satriano Buongiorno a tutti Oggi mi candido alla vicepresidenza vicaria avendo bene a mente il dettato statutario e il significato più vero del ruolo del vicario Presidente nazionale e vicepresidente vicario devono agire di comune accordo e insieme lavorare con la collaborazione fattiva del comitato esecutivo Negli anni passati, io l'ho vissuto sulla mia pelle abbiamo visto il danno che è stato procurato alla federazione allorquando il vicario dell'epoca prese strade diverse da quelle del presidente Negli ultimi quattro anni appunto ho lavorato nel comitato esecutivo guidato dal presidente Righi e diciamo che sono l'unico sopravvissuto al rinnovamento Ovviamente porto con me un bagaglio di esperienza alla guida della federazione che voglio mettere a disposizione del giovane candidato presidente Baccarini oltre evidentemente di tutto il comitato esecutivo e di tutta la federazione Insieme agli altri componenti della squadra abbiamo condiviso un programma che sicuramente non contiene immagini glorificanti dei candidati ne promettiamo ricchi premi e cotion a tutti non più un uomo solo al comando ma valorizzazione delle funzioni, delle competenze di tutti i componenti del comitato e di chiunque vorrà dedicare tempo ed energie alla federazione prendendo tutto il buono che c'è stato delle precedenti amministrazioni cercando di migliorarlo e analizzando gli errori del passato per non ripeterli In questi anni FIAIP ha subito una profonda rivoluzione e nel suo percorso evolutivo oggi deve rispondere con attenzione a tutte le esigenze delle agenzie immobiliari che rappresenta Grazie alla ristrutturazione delle società controllate e al nuovo incremento del numero degli associati modulando tempi e risorse possiamo pensare di fare quello che non siamo riusciti a realizzare negli anni passati e cioè un ufficio studi di primo livello di migliorare i servizi di migliorare il nostro modo di comunicare e inoltre abbiamo la necessità di fare un passo in avanti e dare a tutti i nostri iscritti la possibilità di crescere sia in termini formativi sia offrendo loro opportunità di business migliorando e incrementando la collaborazione Luciano Passuti il nostro indimenticabile Luciano farò per primo il progetto di collaborazione Paolo Righi ha creato l'MLS FIAIP che permette di creare reti di collaborazione ora è giunto il momento di dare a queste attività una nuova dimensione la dimensione identitaria abbiamo l'esigenza di far capire ai nostri associati di avere modalità di lavoro comuni a quel punto la nostra professione non sarà più percepita dal consumatore soltanto come un costo e non dovremo più preoccuparci dello scavalcamento da parte di altri competitor la categoria ha necessità di cambiare di adeguarsi alle nuove modalità di mercato di essere conformi alle sempre nuove esigenze dei consumatori e noi faremo questo lo faremo come squadra lo faremo come colleghi che hanno un obiettivo comune lo faremo come dirigenti ben consci delle responsabilità che ci siamo presi candidandoci all'inizio di questo percorso mi ero candidato alla presidenza nazionale insieme a Gian Battista e a Raffaele Dedemo nello spirito di giungere ad un congresso unitario personalmente ho avuto modo ahimè di constatare che il rinnovamento è qualcosa che avanza in maniera inarrestabile e Gian Battista è il nuovo che avanza è la persona giusta al posto giusto io non potrò che aiutarlo e trasmettergli tutta l'esperienza che ho accumulato in questi anni esperienza che vi assicuro è assolutamente indispensabile per guidare una federazione che in questi ultimi anni è diventata una macchina da guerra l'invito che vi faccio è quello di votare tutta la squadra non tanto per simpatia verso gli uni o antipatia verso gli altri ma perché il comitato esecutivo è un organo molto delicato e complesso e non è pensabile di condurre una federazione come questa senza una linea precisa ed un unico programma pensate se nell'agenzia immobiliare di cui voi siete titolari entrassero 3, 4, 5, 6 soci tutti con idee diverse uno che vuole fare la pubblicità su immobiliare.it un altro che vuole fare la pubblicità video uno che vuole un compenso esorbitante un altro che la pubblicità non la vuole fare proprio insomma tutte idee diverse e sapete perfettamente insomma che cosa accadrebbe significherebbe la chiusura dell'agenzia lo scioglimento della società e la chiusura dell'agenzia immobiliare questo modo di agire non potrebbe essere definito democratico e non potremmo neanche definirlo pluralità di espressione questo modo di agire avrebbe una sola definizione stupidità dobbiamo quindi essere tutti quanti uniti comitato esecutivo giunta nazionale consiglio nazionale e ognuno deve contribuire per comporre insieme la fotografia del nostro futuro e per fare in modo che i nostri uffici le nostre famiglie e la nostra federazione abbiano un avvenire radioso infine vedo in sala tanti giovani ma ci sono anche tante facce di colleghi che ricordo da sempre ebbene tutti voi giovani e anziani in questi anni avete continuato ad aprire ogni giorno la vostra agenzia nonostante la crisi le tasse i governi che certamente non ci hanno aiutato purtroppo anche nella nostra comunità ci sono stati colleghi che non ce l'hanno fatta ed alcuni addirittura si sono visti costretti a compiere un gesto estremo tutti voi invece siete rimasti aperti difendendo con i denti il vostro posto di lavoro alcuni anche per difendere il posto di lavoro dei propri collaboratori durante la crisi i media al pari delle partite IVA spesso vi hanno definiti eroi io invece concludere grazie credo siate molto più semplicemente dei gentiluomini e delle gentildonne perché come diceva Pirandello eroi lo si è soltanto per un giorno gentiluomini lo si è per tutta la vita grazie grazie grazie